La polizia locale di Reggio Calabria ha messo a segno un'altra importante operazione in materia di polizia commerciale. Grazie infatti a specifici servizi organizzati nell'ambito del progetto Focus on Drangheta, personale del servizio operativo è riuscito a individuare e sequestrare una cospicua quantità di merce contraffatta. Per la precisione, 644 pezzi tra CD, scarpe, borse e abbigliamento sportivo, recanti i marchi delle più prestigiose griff, tra le quali Louis Vuitton, Prada, Adidas, Chanel, Nike. La merce posta in vendita da due extracomunitari è stata abbandonata dagli stessi che, avvedendosi dei controlli, sebbene svolti dagli operatori in abiti civili, si davano a precipitosa fuga. Il bottino è stato recuperato e sottoposto a sequestro penale a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sempre nella stessa giornata, il servizio infortunistica ha denunciato alla locale procura della Repubblica un giovane reggino che nel mese di gennaio era stato coinvolto in un incidente stradale. Dalle analisi tossicologiche, il giovane è risultato essere in stato di ebrezza alcolica con un tasso sette volte superiore ai limiti di legge. È risultato altresì in stato di alterazione da sostanze stupefacenti e privo di patente perché è revocata. I controlli della Polizia Locale proseguiranno senza sosta a tutela dei consumatori, della libera concorrenza e della sicurezza della circolazione veicolare.